Questo video è offerto da Il mestiere di giornalista e fake news sono i temi trattati oggi da Giuseppe Lavegna. C'è anche un orientamento professionale a scuola di questi argomenti? Sì, l'incontro con Giuseppe Lavegna di oggi inaugura il percorso di orientamento dei nostri ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Oggi ha incontrato i ragazzi delle terze proprio per avviare questo percorso e discutendo con loro di una professione che è sempre sotto gli occhi di tutti ma di cui in fondo loro non conoscono tutti i risvolti. Molto curiosi di sapere e di conoscere quello che può essere il mestiere dell'inviato facendo tante domande a chi in fondo conoscono perché hanno visto diverse volte in televisione. Orientare i ragazzi significa anche questo, significa anche mostrare loro il panorama delle varie professioni e permettere loro di informarsi in maniera diretta. Questo è il secondo incontro che fate, già uno precedentemente era stato fatto. Che risultati sono emersi dal primo? Dal primo sono venuti fuori dei risultati eccellenti perché i ragazzi hanno prodotto dei lavori e anche fatto delle riflessioni estremamente importanti. Tra l'altro l'incontro dello scorso anno fu centrato soprattutto sugli inviati di guerra perché Giuseppe Lavenia parlò in particolar modo della sua esperienza che allora era recentissima in Ucraina ovviamente parlando anche spaziando come d'altronde oggi e su varie esperienze e non ultima quella del Covid. Le risultanze sono state eccellenti proprio perché i ragazzi hanno fatto tesoro anche nel corso dell'anno scolastico sono emerse queste riflessioni profonde che sono scaturite da questo incontro.